Faceva l'equilibrista in bicicletta nel comune di Manduria, ma dal 1997 percepiva una pensione di invalidità civile come cieco assoluto. A scoprire la truffa allo Stato, le fiamme gialle della provincia di Taranto. L'uomo di 50 anni, infatti, conduceva una vita del tutto normale, passeggiava tranquillamente per le vie cittadine, attraversava gli incroci stradali e si districava tra le auto in sosta. E come mostrano le riprese effettuate dalle guardie di finanze di Taranto, il truffatore si sofferma davanti alle vetrine dei negozi e addirittura è in sella a una motocicletta. Tra l'altro, in una sorta di prova di equilibrismo, l'uomo guida la bici con una sola mano trasportando con l'altro un voluminoso pannello di legno. Le indagini hanno evidenziato che dal 1999 al 2012 l'uomo è incassato complessivamente circa 180.000 euro. Il falso invalido è stato denunciato per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato.